buongiorno bella gente finalmente cominciano i saldi io sono uscita vi ho portato alla gas outlet che si trova vicino al centro commerciale qua nelle vicinanze ci sono delle cose molto molto interessanti i prezzi risconti variano dal 30 per cento fino al 70 per cento ci sono sia della gas che bai marciano ci sono vari articoli molto interessanti ma soprattutto trovato delle tutine quelle sportive che veramente molto belle oltre le borse le borse non hanno applicato tantissimo sconto ma questi tutine qua che io li trovate veramente molto belle anche il tessuto quei prezzi abbastanza accessibili perché sono scontati quasi il 50 per cento e alcuni articoli quei colori sgargianti costano anche al 70 per cento di sconto sono veramente molto belli 22 euro 90 va bene il tessuto è veramente molto bello io preferisco veramente investire su questi articoli perché sappiamo che durano molto di più costano qualcosina di più però comunque a 24 euro 18 euro e li trovi anche di sottomarche ai dio mio questo questa magliettina qua è bellissima però non c'è la non c'è la s che tra l'altro provando i vestiti qua ho scoperto che la s mi sta larga adesso devo provare la xs a malincuore 27 euro va bene io vi faccio vedere tutte le cosette che hanno attirato la mia attenzione questo con body io sono mi piacciono i body però veramente molto bello con 20 euro e ci sono questi bei vestiti lunghi stivi molto interessanti infatti ne ho provato qualcuno comunque per la gente non dimenticate di lasciarmi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto ho delle sorprese per voi fine video perché ho trovato degli articoli alla zara favolosi 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 infatti ci tornerò venerdì oggi mercoledì ci tornerò sicuramente venerdì invece questa qua è una tuta molto carina e il tessuto è molto morbido però mi ho detto troppo caldo belle belli colori mi stanno bene però è un pochettino credo che sia fuori budget 69 90 anche se è scontata molto carina e invece questo vestito bellissimo dei colori per chi non mi conosce io adoro i colori e mi piacciono tanto soprattutto di state questa qua è una taglia 40 mi sta un po larga anche se lungo bello però mi sta decisamente larga questo vestitino è carino però guardandolo è una cosa indossandole un'altra fa vedere troppi difetti invece questo vestitino estivo è molto bello davvero molto bello anche se ho fatto fatica a indossarmelo 70 euro invece mi sono innamorata follemente di questo vestito alla fine non me lo sono preso perché ne ho 100 mila vestiti neri quindi ho detto ma si dai no giusto di fronte a la guess c'è la mango outlet che ci sono delle cose carine anche qua i sconti variano tra il 30 al 50 e il 70 per cento ci sono degli articoli molto interessanti scontatissimi tipo magliette camicie pantalone gonne vestiti in generale soprattutto sulla parte invernale ci sono tantissimi articoli in sconto tipo stivali giacche giacconi vestiti lunghi invernale tutta questa parte qua abbastanza scontata però comunque come questo qua questa pantalone sportivo e questa cesta effetto borsa molto carina mi è piaciuta sono 8 euro e ci sono tanti articoli molto interessanti altri un pochettino meno perché comunque non lo so ho visto poco sinceramente su su mango su mango out poca roba e ho provato diverse cose stavo cercando dei pantaloni lunghi quello che c'era praticamente non c'era neanche tanta gente quindi potevo anche questa qua mi è piaciuta tanto più che altro per lavorare a 6 euro va bene c'è questa gonna qua molto leggera come vedete costava 39 euro e ci sono questi pantaloni che ho detto ma sì dai possiamo anche provarli come vedete ci sono degli articoli che costano veramente pochissimo e altri ovviamente dipende mi piaceva tanto questa però ho visto che costava 18 euro direi proprio di no alla fine come vedete ci sono questi pantaloni sport pantaloncini sportivi che costavano quasi come quelli della gas quindi tra i due scelgo quelli della gas comunque mi piace anche questa giacca bianca sia questa che quella sopra perché costavano 15 euro 99 16 euro veramente erano molto carine comunque ho trovato una gonna nera di pelle che è veramente molto carina ho preso tutte e due le taglie ho preso la taglia le xs e le s per vedere quella che mi sta bene sono andata a provarla mi sono trovata bene aveva solo un bottone che era rotto sono andata a cercare una che sia la s con il bottone a posto ne ho trovata solo che nel ticket c'era scritto 15 euro 99 invece l'altra 7 euro 99 sono andata a chiedere alla tipa il prezzo mi ha detto no 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 va bene costa questa qua no 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 costa 7 euro 99 bene perfetto prendo faccio la coda c'era un sacco di gente arrivo alla cassa mi dice 15 99 io ho detto guardi che ho chiesto alla collega gli dava 7,99 lui dice no 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 perché sono uguale però hanno i prezzi diversi perfetto l'ho lasciata alla cassa e sono andata via anche se è molto carina però non mi piacciono queste cose bene e i pantaloni questi qua sono carini però su di me veramente sembro un orribile questi inaccettabili però alla fine non ho preso assolutamente niente da mango e sono andata via sono andata via perché avevo il telefono mezzo scarico però ho detto ma no dai vado dato che ci sono vado alla zara sono entrata alla zara ma guarda non ho capito perché non sono venuta prima sono rimasta alle vita dei vestitini prima di tutto super sexy coloratissimi stupendi meravigliosi guardate questo vestito di acqua come qui ci torno venerdì ci torno venerdì perché è veramente guardate questo guardate il colore e guardate il prezzo c'è 18 euro stupendo c'è una varietà di vestiti allucinanti guardate questo nero c'è 20 euro guardate questo specie di gilet lungo bellissimo peccato c'è l'xs lxl guardate questo vestito bianco c'è una varietà di scelta di vestiti colorati non guardate questo bianco color panna stupendo un po' corto anche questo un po' corto però veramente è una favola ben 16 euro guardate questo bianco io sono rimasta persa 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 16 euro guardate questo rosa e io mi sono innamorata prima di uno verde che è guardate questo sono colori forti guardate questo verde qua peccato che non ho trovato la taglia c'è vestiti lunghi quante ne volete per la gente che mi piacciono i colori guardate questo top non so cosa dire c'è una varietà pazzesca la unica cosa che io ho provato alcuni prodotti peccato alcune cose peccato che il mio telefono si è scaricato si è spento guardate questo top infatti lo comunque sono comprato peccato che ho preso le s però mi sta larga peccato che mi sia scaricato il telefono bella gente se vi piace questo video se vi piace che faccio un altro venerdì fatemelo sapere mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità ciao al prossimo video vi voglio bene a tutti e seguitemi su instagram e facebook e guardate la roba che c'è ho registrato finché si è spento il telefono guardate questa meraviglia qua mi sparo torno venerdì ciao grazie a tutti grazie a tutti